Questa amministrazione, la persona del sindaco, ha fatto sapere il primo cittadino, Aurelio Russo, ha già attivato gli uffici competenti al fine di valutare la fattibilità di uno studio idrogeologico di tutto il territorio della rete fognaria e di una mappa aggiornata delle cavità presenti a Sant'Antimo. L'indirizzo, peraltro, condiviso da una parte dell'opposizione, in particolare dal consigliere Giuseppe Italia, che ha presentato una mozione al Consiglio Comunale in merito alla questione. Il consigliere di Deema ha chiesto, infatti, di realizzare una videoispezione del sottosuolo e provvedere ad un contributo per le famiglie colpite dallo sgombero. Questa mattina sul posto è giunto anche il consigliere d'opposizione, Corrado Chiariello. L'esponente di Forza Italia sottolinea che, proprio di recente, i fondi per le cavità sotterranei sono stati spostati verso altre attività. ...i 35 mila euro dal colmamento delle cavità al capitolo associazione. Lo dicemmo in Consiglio Comunale. Purtroppo mi dispiace che sia successo proprio ora questa cosa. E oggi che cosa facciamo? Possiamo mai dire a loro che non abbiamo i soldi per intervenire? Bisogna intervenire, facciamo debiti fuori bilancio e sistemiamo un attimo la cosa. Lo dico non perché sto all'opposizione, ma semplicemente perché dobbiamo venire incontro alle esigenze dei cittadini. Punto. Non c'è altro. Il momento delle cavità che esistono su Sant'Antimo, in diverse zone, va affrontato, come suole dirsi, di petto. È un problema serio, questo sicuramente. Però se se ne fa soltanto una questione di apporsi delle medaglie sul petto, non si arriva mai da nessuna parte. Noi ci siamo, siamo pronti ad affrontare il problema nella sua interezza, e non solo quello che c'è a via Pietro Giannangeli, ma in tutto il territorio del comune di Sant'Antimo.